Yeah, tornati Molto veloci eh Dai facciamoci la casetta, la mining house Allora La cobblestone, se utilizziamo questa cobblestone Sta già andando giù il sole, no ok Qua sono esplosi tipo 26 creeper, ma va bene così Allora, la mining house Come la vogliamo fare? Vediamo un po' No, troppo vicina all'entrata Qua Ok, questa sarebbe la porta Possibilmente lasciamola libera 3, 4, quindi altri 4 di qua 2 3, 4 Ok E poi mettiamoli Così E questo Andrà lì sopra Tututu, tutto Ok, questo è l'outline della nostra mining house Sounds good Yeah, sounds good Allora Questo è un giro 3 E3, ok Tac Ok Sì, 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 ho una buona idea Tac Tac Wop Ah E' partito il mouse Non vogliamo cadere nel buco Grazie Potevo metterli prima, eh, però stavo pensando a cosa farci sopra Tac Tu, sei nel punto sbagliato Diamine Ok Ok E' una pecora Beh E' un maial pecora Signora maiala pecora O pecora maiala Quello che vuole lei Allora Prendiamo questo Poi leviamo questo Ok Poi leviamo questo E non serviva solo per Allora Tac Prendiamo questi Portiamoceli qua Sta già tornando Ma che cazzo di No, è mezzogiorno Perché ti arrabbi Quitto Non ti devi arrabbiare Ok Diamine Non ho la mia ascia E' la mia ascia Parapapam Parapam Parapam Pam Pam Ok 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 Allora Ora che abbiamo fatto questo Vogliamo dargli un tetto Però prima di tutto Voglio fare una cosa Tac Facciamoci Direi che 8 Dovrebbero bastare Yes Diamine Voglio riuscire a metterla In laterale Però per farlo Mi sa che devo fare Tipo una cosa così E poi così E poi così Così E poi così E poi così Yes E poi posso Ucciderla No È tornata normale Niente Non posso farlo Va bene Non è problema Non hai problema Allora Facciamo così Vieni con me tu Grazie Poi Facciamo così E poi Facciamo così E poi Facciamo così Ok Quindi poi così 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 E così Vediamo un po' Mi piace molto il muro qua Però Qua c'è la porta Quindi no Però possiamo fare qua Delle altre finestre Quindi prendiamoci questo Ediminiamo questo Facciamo questo Così Sta venendo buio Io non ci credo Mi sono dimenticato Quanto la giornata in Minecraft Sia lenta Ok Mettiamo questo qua Allora Iniziamo con un po' Di vetro Just because we can Tu 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 Dov'è il vetro? Qua Tan 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 Non basterà Non basterà Che tristezza Ragazzi miei Le domande sessuali Quando non sapete Neanche cosa è il sesso Non le dovreste fare Parola di Zio Quittolo Perché Una cosa che ho imparato io È che solo Chi non fa sesso È ossessionato Dal sesso Assolutamente vero Un po' di sabbia Per Zio Quittolo YouTube in Italia potrebbe diventare un vero e proprio lavoro Per pochi Ma potrebbe diventarlo Allora Tac Tac Mangiamo Non so se Luke va in live Non credo Sabo chiede di bannare quelli che fanno domande insulse In effetti potrebbe essere un'idea Potremmo bannare chi fa domande insulse Però poi bisognerebbe dire Ma secondo me questo è insulso Questo è insulso eccetera eccetera È un po' un casino Capire cosa sia veramente insulso e cosa no Comunque Sta venendo buio di nuovo Io non ci voglio credere Prendiamo un paio di queste Dove sono i miei Fair saplings Perfetto Piantiamo un paio di fair saplings qua Ok E andiamo a dormire Che bello essere da solo È notte Guarda Sole sta calando Minecraft È notte Devo andare Grazie Ho la S Mossa No Io non ho la S Mossa Sono solo un po' Asemo Allora Un po' di questo Splat Splat Dio è cresciuto grosso Va bene Prima di far partire quello Allora Il dirt Ce l'abbiamo Sì Ok Va bene Va bene Va bene Non vi arrabbiate Andiamo qua Questo è come ho preso i materiali per la casa Just saying Ho preso un fair sapling E poi ho continuato a moltiplicarli Sivolo Adesso Creerò il mito del fatto che ho la S Mossa Sembra interessante Surria sta vedendo il tuo live nel suo live Ciao Surri Non c'hai proprio un cazzo da fare Ma proprio niente L'ho già fatto vedere il tatuaggio Ma come è cresciuto magia E poi dovrò tornare su Questo è quello che facevo io durante il live di Luke Sappiatelo Facevo solo e unicamente questo Per prendere e costruire la casa ovviamente Direi che me ne servirà Un altro di sapling E poi poi avremo finito Questa è cresciuta Che figata Quello è cresciuto per magia Ok Allora Ricominciamo Ricominciamo La finale di LOL è lunedì Uah È lunedì Alle 21 Si sono messi d'accordo i ragazzi Dei Mad e dei Fova Finalmente E quindi la faremo Siamo 513 Nice Allora Qui Surriel è messo che fa star nuti nel live Quindi a 90 Se mi piace il calcio Il calcio mi piace Mi piace parecchio Però mi piace giocarlo Non mi piace guardarlo Per niente Lo trovo una cosa inutile Dovrei rifarmi una palla Ma va bene Tanto noi siamo veri uomini E andremo avanti a mani Ciao Cranir Salutami tutti Wanna Perché Surreal sta streamando il mio live Io non ne ho idea Chiedila a lui Vedete perché non vai nel Milan C'ho giocato nel Milan T'han detto che la gaia è incinta T'han detto male È solo grassa Scherzo È un amore la mia ragazza Che piano tarifario ho con la telecom La 10 mega Oddio quanti sapling Ecco questo albero qua ti dà un fottio di sapling Se lo tiri giù tutto Quindi è per quello che io ho così tanti Tanto legno verde A caso Allora Mettiamo via questi Abbiamo 64 più 43 Non ha senso Ok Questo mettiamo qua Non me li mette più qua dentro No Grazie Fantastico Allora useremo queste 64 Per fare dalla scale Ma dobbiamo anche fare così Yup Ok Qualcuno ha appena citofonato Non so chi sia Quindi non aprirò Allora Hmm Hmm Facciamo Facciamo Di solito lo faccio verso l'entrata Non lo so No Facciamolo così Ok Ah Giù È lo strodro A citofonare Sì potrebbe essere O potrebbe essere la portinaio Perché l'ho messa anche Sono babbo Ho appena messo delle scale inutili Ma va bene così Ascia Fai il tuo dovere Qual è il seed del mondo? Non ne ho la minima idea Ciao Surry Allora Un po' di questo Sta venendo notte di nuovo Ma porco il clero Allora 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 Allora